Anche quest'anno all'interno delle celebrazioni Ferrucciana-Gavinana si è tenuto un tradizionale processo storico che ha avuto come protagonista Eleonora di Toledo, consorte di Cosimo IX de' Medici, granduca di Toscana. Quest'anno ricorre l'anniversario, il 450esimo anniversario della morte di Cosimo I de' Medici e Giorgio Vasari. Tutta la Toscana celebra questo momento e anche noi nelle celebrazioni Ferrucciane, che sono antecedenti di pochissimo il rientro della Casata dei Medici a Firenze, perché Gavinana determina la fine, la cesura della Repubblica Fiorentina, ma anche noi volevamo celebrare Cosimo I de' Medici e quale meglio occasione se non il processo storico. E quindi il Tribunale Rosario Poma ha deciso di processare la moglie di Cosimo I de' Medici Eleonora di Toledo. Ora stiamo aspettando il verdetto se il Tribunale Rosario Poma e il Tribunale della giuria popolare la salva o la decreta colpevole. Penso che la salverà. Allora, do lettura della sentenza. Allora, il Tribunale Rosario Poma assolve con formula piena l'onora di Toledo le accuse che le sono state rivolte. Allora, Duchesse è andata bene, l'hanno assolta a formula piena. Sono stata stolta, quindi sono molto felice, perché io ho sempre rispettato il mio popolo, ho sempre rispettato la famiglia e di conseguenza non vedevo il motivo per cui non sarei dovuta essere assolta. Grazie. 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 Grazie.